A parlarci di questo argomento è un giornalista, uno scrittore, Gigi Di Flore, prima che inizi il suo intervento, però c'è un premio che vuole ricevere da parte di Policato. Il premio l'ho ritirato io indegnamente a Ciro Marina, è un premio internazionale che le è stato attribuito meritatamente, tra i quali l'ho avuto pure io per prima, diciamo tre anni fa, poi Pino Aprile, poi è toccato a Gigi Di Flore, meritatamente perché Gigi è veramente uno scrittore che va alla ricerca dei fatti, negli archivi, come un po' tutti noi, però lui è pignolo e quindi è stato attribuito questo premio che io indegnamente ho dovuto ritirare a Ciro Marina, lui era assente per motivi di lavoro, non ricordo perché, però un applauso lo merito. L'ho preso in consegna dalla dottoressa Francesca Gallello, che è veramente un'altra donna brigantessa che va a fare ricerca negli archivi, la conosciamo tutti, qui dico io in quest'aula oggi sono presenti quasi i migliori ricercatori di storie, noi ci stiamo sostituendo dagli storici, perché gli storici i cosiddetti italiani non fanno il loro dovere, noi ci siamo sostituiti a loro. Grazie. 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 Grazie.